Il centro comunale di raccolta rifiuti di contrada pisti di Capodorlando al centro delle polemiche. Sono state diverse le segnalazioni durante il periodo estivo sugli odori nauseabondi che provengono dal CCR e che hanno provocato le proteste di residenti e visitatori. I consiglieri comunali San Filippo e Gemmellaro hanno presentato una interrogazione a riguardo e chiedono il trasferimento del centro. Noi chiediamo la rimozione immediata perché il sindaco sa benissimo che quello non è un sito idoneo. Oltretutto ci sono i residenti, ci sono delle strutture ricettive, ci sono anche delle strutture di ristorazione e quindi è una situazione invivibile. Ci sono le strutture sportive, c'è una palestra privata, c'è il campo sportivo di Pissi che non si sa bene se è aperto, se è chiuso, chi lo può fruire, chi non lo può fruire. Qui ci sono tante cose che non funzionano ma il sindaco si ostina a fornire rassicurazione ma non fare nulla. E quindi noi pretendiamo una risposta chiara, immediata, il CCR va riallocato in altro sito. Intanto il 10 settembre scade il termine per la presentazione delle offerte per la manifestazione di interesse per individuare l'impresa che gestirà la raccolta e il conferimento dei rifiuti visto che sta per scadere l'affidamento alla Loverall di un servizio giudicato insufficiente. Noi auspichiamo che il gestore sia un gestore responsabile, chiunque sia, perché sistematicamente pare che i contratti non vengano rispettati, il lavaggio delle strade, il turnover dei passaggi di raccolta, spesso resta l'indifferenziato. Mi auguro che le contestazioni vengano fatte e le detrazioni sul contratto pure. Insomma la vigilanza, il controllo, l'esercizio dell'attività di controllo da parte degli uffici preposti deve essere continua e costante. Questo è un servizio, come lei sa, molto delicato, è un servizio che ha riflessi sulla salute pubblica e quindi va garantito perché viene pagato a fior di quattrini, diciamo, non è che viene pagato senza soldi, sono milioni di euro che vengono sborsati a carico di cittadini, quindi questa è un po' la situazione. Beh, un servizio forse gestito con superficialità e con controlli non adeguati.